Classi in quarantena presso la scuola Landolfi e l'istituto comprensivo Agropoli San Marco a distanza di quattro giorni dal rientro a scuola. Purtroppo in soli pochi giorni dalla riapertura delle scuole dopo le festività natalizie si cominciano a registrare già i primi contagi tra i piccoli studenti. Il governatore della campagna Vincenzo De Luca aveva emanato un'ordinanza che prevedeva il rientro a scuola per il prossimo 29 gennaio con l'applicazione della DAD, ma il ha bocciato il provvedimento del governatore. Sono stati tanti i malumori registrati da parte di diversi genitori della campagna, ma anche ad Agropoli le famiglie si dividono ancora sulla questione scuole. Il governo continua a parlare di scuola in sicurezza quando per la scuola non è stato fatto assolutamente niente, nessuna modifica né strutturale né organizzativa, le classi continuano ad essere classi pollaio, i sistemi di areazione sono inesistenti, i mezzi pubblici per raggiungere la scuola sono affollati, il servizio mensa continua a funzionare, gli alunni che mangiano a contatto gli uni con gli altri non hanno la mascherina, i bambini della scuola dell'infanzia stanno a scuola per otto ore senza mascherina e con il servizio mensa attivo e nella scuola dell'infanzia qualsiasi tentativo di distanziamento non è realizzabile. Questa è la scuola in sicurezza, la scuola in presenza non potrà mai essere degnamente sostituita dalla DAD, è vero, ma si dovrebbe pretendere la realizzazione di tutte le condizioni affinché i nostri figli possano frequentare davvero in sicurezza la scuola, scrive un insegnante su Facebook. Io sono per la DAD, a discrezione dei genitori soprattutto di figli minori, scrive una cittadina invece sui social, io vorrei la libertà di richiederla per il semplice fatto che non credo che i politici siano volti a badare al microcosmo familiare di ogni piccola singola comunità, ma intenti e votati a interessi strutturati su macroeconomia e altro, quindi io vorrei urlare a gran voce il diritto dovere da genitrice di difendere il mio piccolo microcosmo, lasciare la scuola aperta per chi se la sente di andare e lasciare i posti liberi per chi non può permettersi, per avverse condizioni socio-economiche, la possibilità di stare in DAD. Si svuoterebbero le aule rendendole ancora più sicure, ma dateci l'opportunità di proseguire lo studio e in sicurezza.